Salve cari amiche e cari amici, oggi volevo fare una piccola recensione di un mascara che sto utilizzando e che mi sto trovando benissimo, aspettate che è giusto, non è giusto, mi sposto io, ossia il volume manga, Miss manga mega volume, allora vi devo dire che le mie cigliette stanno ricrescendo e questo mascara praticamente mi allunga tantissimo e sembra che abbia le ciglia quasi 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 normali, quindi sono molto contenta di questa mascara, lo consiglio anche perché è sfiziosissimo, perché ha questo scovolino così basculante, vedete, per fare le ciglia di sotto, ma io non me ne faccio perché ancora non mi sono cresciute, però diciamo che per qualità prezzo è molto 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 buono, io l'ho pagato 8,90 anche se mi ha petto l'ho pagato 7,90, non so dove, però forse a Roma costa un po' di meno, l'ho tolto pure a 9,90, 10,90, poi dipende ovviamente dalle profumerie e vale il prezzo, aspettate un attimo, vieni qua Akira, un saluto da Akira, chi è? no niente se vuole sto, vai capricci sta patatina, la patatina di mamma, vai patatina scusate allora quindi la recensione per me è pollice in su, lo consiglio, lo straconsiglio, perché ha problemi di ciglia un po' corte, perché non c'è l'effetto volume nel senso che non le volumizza, cioè a me sono ricresciute, fortunatamente sono ricresciute forte, però sempre scusate se tiro su con il naso, ma sono ancora raffreddata, non ho più la tosse però eh, cosa molto importante, e le allunga, e quindi fa lo sguardo molto più intenso, tipo cartone animato, la cosa bella è che non le rende a ragno, cioè le lascia belle disticate, ognuna per i fatti propri, e poi ci troveremo, vabbè, non c'entra niente però, piccolo sacchetto musicale, il trucco l'ho fatto con la base dell'Xim, ho usato un po' di correttore della Wicon, ho usato il vanilla per il chiaro, poi un marrone e un nero, e poi ovviamente il mascara, vabbè, non mi è ancora finito, però io già l'ho ricomprato, perché, come sapete ho un po' la sindrome dell'abbandono, quindi l'ho subito ricomprato, anche se ce n'è in abbondanza, anche perché non sto scendo molto, ieri ho fatto la prima lezione di kickboxing, finalmente, mi sono un po' stanca, mi sono tutta ammatanzata, ammatanzata, mamma mia che terminaccio, mi sono tutta, come posso dire, mi fanno male un po' gli addominali, perché il maestro ci ha fatto fare un po' gli addominali, ieri sono sfiancatissimi, però mi sono divertita, sì sì sì, mi sono divertita un sacco, e dopo domani ritorno, cioè domani, vado a fare l'altra lezione e venerdì, faccio i giorni lunedì, mercoledì e venerdì, poi sabato e domenica, poi lunedì, mercoledì, vabbè, vabbè, io non sono molto brava a recensire i prodotti, mi sono anche pettinata, perché i miei capelli stanno iniziando a prendere delle pighe un poco strani, ieri sera dopo la palestra ho fatto la doccia, sono tornata a casa, avevo tutti i capelli arruffati, mi trovavo una spazzolina quella per i bebè, perché sennò mi graffiavo la guida, mi graffia il cuoio capelluto, va bene, questo video sarà una scemità, cioè non è una scemità, perché comunque ho recensito un prodotto molto valido, che tutti conoscete, e poi volevo, sono rimasta contentissima che mi appetta sia entrata nella casa dei grandi fratello, ieri per la prima volta, dopo la prima edizione, dopo 13 edizione ho seguito, così, ho ascoltato, perché stavo al computer, ho ascoltato la casa dei grandi fratello, però vi devo dire la verità, l'ho vista un poco moscetta, non lo so, sì, sì, fa le sue battodine, o perché non la seguo 24 ore su 24, perché comunque non posso stare là appiccicata, sì, fino a un certo punto, però anche se diciamo che la conosco tra virgolette, perché è comunque un personaggio pubblico, cioè, a me gli appetta mi piace, mi piace come persona, come risponde ai messaggi, non se la tira, poi mi piace la sua storia, è un esempio da seguire, e quindi sono proprio contenta che sia entrata nella casa dei grandi fratello, anche se secondo me è un po' costretta, visto che lei è uno spirito libero, e quindi penso che soffrirà un pochino a stare reclusa, sempre proprio le stesse persone, se lei piace il lavoro che fa, è tutto quello di incontrare sempre persone nuove, e vabbè, poi vedremo, ieri ho avuto una nomination, una sola, però, bastardo, non mi deve vincere, forza mi appetta, io non voterò perché, sinceramente, non me ne frega, cioè, non è che non me ne frega, non mi interessa più di tanto, perché è soltanto un gioco, poi, sa loro, la loro bravura, la loro, la loro spigliatezza, a farli andare avanti, non di certi nostri voti, detto questo, vi rinnovo, acquisto del mascara, compratelo, e poi mi dite se vi trovate bene, mi sono trovata benissima, lo consiglio, e, questa è, la mia vita sta ritornando di nuovo normale, sono contenta, e, piano piano, ritorneranno anche i capelli, anche se, non è male, sto taglio, che ci è voluto per fare, la macchinetta, vabbè, sto divagando troppo, un saluto a tutti, un bacione, e al prossimo video, ciao! Ciao!